Achille, da che parte tira il vento? Voi mi chiedete da che parte tirerà il vento? Ne parleremo fra un po', per la Milano Saremo faremo una specie di fantameteo con una bella sfera di cristallo. Per ora contentiamoci di fare una previsione per il prossimo weekend. Non vedo che ci sono partite importanti sabato che ci possono riguardare. Solo domenica a Genova, Genova Juventus e per quanto riguarda il Milan, Milan Lecce a Milano. Nord Italia quindi saremo sotto l'influenza dell'altra pressione, ma non ancora di quelle con caratteristiche nebbiose. E poi visto che si gioca di pomeriggio alle 15, io dico che in entrambe le partite, Genova e Milano, il tempo sarà ottimo, anche con una temperatura decisamente gradevole. Ci sarà un po' di vento settentrionale, soprattutto a Genova, debole, a Milano neppure quello, e la visibilità sarà molto buona, se non addirittura ottima. E poi adesso passiamo a quel fantameteo di cui vi ho parlato prima e mi chiedete da che parte tirerà il vento per il sabato 17. Un attimo solo che prendo gli attrezzi del mestiere. Ecco qua la mia sfera. Quindi il vento tirerà, uso ancora questo termine, dalla parte in cui ci saranno degli aerei che con le loro scie cominceranno a spargere qualcosa nell'aria. E a quanto pare mi hanno detto che questa materia che spruzzeranno nell'aria sarà Viagra. Quindi il vento tirerà maggiormente dalla parte in cui questi aerei spruzzeranno più Viagra. È tutto. Ciao Paolo e ciao Renzo.